Si chiama Katelyn Alsop, è una giovane ragazza dell'Australia, australiana, di 23 anni d'età, che ha notato sul suo viso i segni di un'irruzione cutanea, sembrava tipo un eczema. Lo sfogo però non andava via, non andava a scomparire, le è arrivata una bella febbre improvvisa, mal di gola, ad un orecchio, mal di gola scusatemi, ma anche male all'orecchio, la lingua che si è gonfiata. E' stato scoperto che tutti quei sintomi erano derivati da un'infezione che si era andata a inserire in lei, in un dente del giudizio, che era rimasto incluso e non era quindi riuscita a emergere nell'arco delle gengive. Complicanza non del tutto rara, a volte infatti c'è persone che hanno questo tipo di problemi qua. La ragazza ha sviluppato questa infezione e pensate che addirittura è finita in coma per colpa di questa infezione. E' stato operato il gesto per andare a togliere il dente e adesso finalmente sta molto meglio e lavora per andare a informare l'opinione pubblica, tutti quanti, sul tema delicato della prevenzione. Fare sempre prevenzione, questo è un tema veramente importante che la ragazza vuole andare a stabilire e lo fa in una maniera molto pulita, serena e soprattutto evidente. Sensibilizzare l'opinione pubblica. Ben detto, bravo. Il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate e una buona giornata a voi.